Disidratazione e le migliori opzioni di trattamento Come trattare disidratazione? Acqua adeguata è essenziale per la salute e la vitalità. La disidratazione accade quando non si sostituisce l'acqua nel vostro corpo che si perde nel corso della giornata. La disidratazione può essere causata da esercizio fisico, la malattia, o semplicemente non bere abbastanza acqua. Comprendere i segni e sapendo come reagire sono essenziali per una buona salute e di recupero. Di solito è possibile trattare da lieve a moderata disidratazione da soli. Tuttavia, se si dispone di grave disidratazione si dovrebbe consultare immediatamente un medico. Valutare la situazione Sapere chi è più a rischio di disidratazione I bambini molto piccoli, gli anziani e le persone che soffrono di malattie croniche sono a più alto rischio di disidratazione. Tuttavia, altri gruppi sono a rischio più elevato. Corpi dei bambini sono costituiti da più acqua rispetto agli adulti, e il metabolismo dei bambini sono più alti rispetto metabolismi degli adulti. I bambini spesso avere episodi di vomito e diarrea, come parte delle malattie infantili. Essi possono anche non essere in grado di capire o comunicare quando hanno bisogno di liquidi. Le persone anziane non possono sperimentare sensazioni sete regolarmente, ed i loro corpi non conservare l'acqua come bene. Alcune persone anziane possono anche avere le condizioni, come il morbo di Alzheimer, che rendono difficile comunicare le loro esigenze di caregivers. Le persone con malattie croniche, come il diabete, insufficienza cardiaca, o malattie renali, hanno maggiori probabilità di diventare disidratati. Le persone possono anche prendere i farmaci che contribuiscono alla disidratazione, farmaci diuretici. Malattie acute come l'influenza può anche aumentare il rischio di disidratazione. La febbre e mal di gola ti fanno meno probabile che vogliono bere. Ginnici pesante, soprattutto gli atleti di resistenza, sono a più alto rischio di disidratazione perché i loro corpi possono perdere più acqua di quanto non siano in grado di consumare. Tuttavia, la disidratazione è anche cumulativa, in modo da poter diventare disidratati nel corso di un paio di giorni, anche con l'esercizio fisico leggero, se non si consumano abbastanza acqua. La gente in climi molto caldi o che sono spesso esposti al calore prolungato sono a rischio più elevato. Ad esempio, i lavoratori edili e le altre persone che lavorano fuori tutto il giorno sono a un elevato rischio di disidratazione. Ciò è particolarmente vero se è anche umido in quel clima. Il sudore non evapora bene in ambienti caldi e umidi, in modo che il corpo ha più problemi raffreddamento stesso. Le persone che vivono ad alta quota, sopra 8200 FT-2500 M, sono ad aumentato rischio di disidratazione. Il tuo corpo può ricorrere ad un aumento della minzione e respirazione rapida per mantenere il corpo ossigenato, entrambi quali contribuiscono alla disidratazione. Riconoscere la disidratazione lieve o moderata. Di solito è possibile trattare da lieve a moderata disidratazione a casa, con i rimedi suggeriti in quest'articolo. Segni comuni di lieve a moderata disidratazione includono. Giallo o ambra scuro delle urine. Menzione frequente. Sudore ridotto. Aumento della sette. Secco bocca, il naso e gli occhi. Pelle che si sente asciutto e stretto. Può essere raggrinzito insolitamente rugosa. Vertigini. Sensazione di svenimento. Debolezza, tremori. Surriscaldamento. Mal di testa. Fatica. Riconoscere grave disidratazione. Non si dovrebbe trattare la grave disidratazione a casa con rimedi. Si avrà probabilmente bisogno 4 idratazione per recuperare da una grave disidratazione. Chiedere immediatamente un medico se i sintomi includono una delle seguenti. Poca o nessuna menzione. Urine molto scuro. Vertigini o sensazione di testa vuota che ostacola seriamente la capacità di stare in piedi o muoversi. Debolezza o agitazione. Bassa pressione sanguigna. Tachicardia. Febbre. Letargia o confusione. Sequestro. Shock, ad esempio, pallida pelle umida, dolore toracico, diarrea. Cercare i sintomi da lievi a moderate disidratazione nei bambini. I bambini non possono essere in grado di comunicare tutti i loro sintomi a voi. Ci sono diverse cose che si possono cercare per determinare se il vostro bambino è disidratato. Lacrime ridotto. Se il bambino sta piangendo, ma non la produzione di lacrime, o non così tanti come al solito, e se gli è disidratato. Tempo di riempimento capillare. Questo è un semplice test spesso usato dai pediatri per testare per la disidratazione. Premere sull'unghia del bambino fino a quando il letto ungueale diventa bianco. Avere il tuo bambino tener la sua mano sopra il cuore. Guarda quanto velocemente il letto ungueale diventa rosa. Se prende più di due secondi, il vostro bambino può essere disidratato. Rapido, poco profondo, o respirazione disturbata. Se il bambino non respira normalmente, potrebbe essere un segno che lui e lei è disidratato. Riconoscere grave disidratazione nei neonati e nei bambini. Grave disidratazione nei bambini devono essere trattati immediatamente da un medico. Chiamate il vostro pediatra o servizi medici di emergenza se il vostro bambino ha uno qualsiasi dei seguenti sintomi. Occhi infossati o fontanelle. La fontanella è il debole sulle teste bambini molto piccoli. Se sembra affondata, il bambino è probabile disidratato. Turgore della pelle. Turgore della pelle è essenzialmente come la vostra pelle scatta di nuovo dopo essere stati spostati. Ad esempio, i bambini che sono disidratati avranno ridotto turgore della pelle. Se si tira su una piccola piega della pelle sul dorso della mano o sul loro stomaco e non ritorna al suo stato originale, il bambino è disidratato. Nessuna uscita di urina in otto ore o più. Letargia o perdita di coscienza estrema. Controlla la tua urina. Quando si è adeguatamente idratati, l'urina dovrebbe essere un pallido, giallo trasparente. Avere acqua troppo o troppo poco nel vostro sistema cambierà il colore delle urine. Se la vostra urina è molto chiara o non ha quasi nessun colore, si può essere overidratata. Iperidratazione può causare pericolosamente bassi livelli di sodio, un'elettrolita naturale e tuo corpo ha bisogno per funzionare. Se la vostra urina è di colore giallo scuro o ambra, si sono probabilmente un po' disidratato e consiglia di bere acqua. Se la vostra urina è di colore arancione o marrone, si è gravemente disidratati e hanno bisogno di assistenza medica invediata. Trattare neonati e bambini. Utilizzare una soluzione di reidratazione orale. Questo è il trattamento preferito raccomandato dall'American Academy of Pediatrics per una lieve o moderata disidratazione. Piano per ripristinare i livelli di liquido del bambino nel corso di 3-4 ore. Utilizzare una soluzione elettrolitica commerciale come pedialite. Queste soluzioni hanno zucchero e sale elettroliti per aiutare a prevenire basso livello di zucchero nel sangue. È possibile effettuare le proprie soluzioni per la reidratazione, ma a causa della possibilità di errore, è generalmente più sicuro di utilizzare soluzioni commerciali. Dare al bambino 1-2 cucchiaini, 5-10 ml, della soluzione ogni pochi minuti. È possibile utilizzare un cucchiaio o una siringa orale, non contiene un ago. Inizia lento, troppo liquido in una sola volta può causare nausea o vomito. Se il bambino vomita, attendere 30 minuti prima di iniziare di nuovo. Evitare altri fluidi. Se il bambino è disidratato, esse gli sarà probabilmente bisogno di avere l'equilibrio elettrolitico nel sangue restaurato. Bibite e succhi di frutta possono causare iponatremia, o basso contenuto di sodio nel sangue, nei bambini. L'acqua naturale, inoltre, non contiene abbastanza elettroliti per ricostituire il corpo del bambino, perché i bambini hanno un fatturato elettrolita molto più veloce rispetto agli adulti. Soda possono anche contenere caffeina, che è un diuretico e può disidratare ulteriormente il bambino. Succhi di frutta possono avere troppo zucchero e possono rendere la disidratazione peggio nei bambini piccoli. Questo vale anche per le bevande sportive come Gatorade. Altri fluidi da evitare sono il latte, brodi chiari, tè, gingerale, e gello. Allattare un bambino. Se il vostro bambino è ancora l'allattamento al seno, cercare di convincere il bambino ad allattare. Questo aiuterà a ripristinare elettrolitico del bambino e livelli dei fluidi e aiuterà anche l'ulteriore perdita di liquidi attraverso la diarrea. È possibile utilizzare la soluzione di reidratazione orale tra allattamento al seno se il vostro bambino è molto disidratato. Non usare la formula durante il periodo di reidratazione. Mantenere l'idratazione. Una volta che il bambino ha avuto i fluidi iniziali ripristinati, è necessario fare in modo che il bambino continua a ottenere abbastanza fluido per le prossime 24 ore. L'Associazione Americana dei Medici di Famiglia raccomanda la seguente formula. I neonati dovrebbero ricevere 1 oncia di soluzione di reidratazione orale per ora. Per i più piccoli, età 1-3, dovrebbero ricevere 2 once di soluzione di reidratazione orale per ora. I bambini più grandi, più di 3, dovrebbero ricevere 3 once di soluzione di reidratazione orale per ora. Controllare l'orina del bambino. Per assicurarsi che la reidratazione è in funzione, controllare il colore delle urine del bambino. Come con l'urina adulti, bambini sani dovrebbero avere chiaro, limpido urina e giallo. Urina molto chiaro o in colore potrebbe essere un segno di iperidratazione. Alleggerire i fluidi per un po' per assicurarsi che non si butta fuori equilibrio di sodio del vostro bambino. Se l'urina è di colore ambra o più scuro, continuare con il trattamento di reidratazione. Bere acqua e liquidi chiari in piccole quantità. L'acqua è di solito sufficiente per reidratare adulti. Altre opzioni includono brodo chiaro, ghiaccioli, jet low, e sport bevande contenenti elettroliti. Vai piano, bere troppo troppo veloce può causare il vomito. Prova cubetti di ghiaccio. Si dissolvono lentamente e l'effetto di raffreddamento può essere utile per le persone surriscaldati. Se la disidratazione è il risultato di una prolungata attività fisica, consumare una bevanda sportiva che contiene elettroliti. Evitare alcuni fluidi. Quando si è disidratati, evitare la caffeina e alcol. Questi hanno effetti disidratanti sul corpo. Bevande come caffè, tè caffeina, soda e non deve essere assunto durante disidratato. Si dovrebbe anche evitare i succhi di frutta, come lo zucchero può avere un effetto disidratante, aumentando la minzione. Mangiare cibi con un alto contenuto di acqua. Se non si è nausea, provate a mangiare alcuni tipi di frutta e verdura con un alto contenuto di acqua. Anguria, melone, pompelmo, arance e fragole sono molto alto contenuto di acqua. Broccoli, cavolfiori, cavoli, sedano, cetrioli, melanzane, lattuga, peperoni, ravanelli, spinaci, zucchine, pomodori hanno molto elevato contenuto di acqua. Evitare di prodotti lattiero-caseari in caso di diarrea o nausea con la disidratazione. Si può peggiorare questi sintomi.